Bentornati su MyFootballJersey. Oggi non vediamo una maglia, vediamo questo bellissimo antivento del Tottenham. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti i riferimenti per ordinare la maglia, allora andate a vedere quale bellissime offerte vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, mi raccomando lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.